Salve, sono Alex Ignazio93 E questo è Assassin's Creed, cronistoria, episodio, ditelo voi, ditelo voi, lo dico io 100, 100, ce l'abbiamo fatta, 100 episodi, numero a tre cifre Poi lo so meglio di voi che in realtà con tutti gli episodi extra che ho fatto nel corso degli anni Ho superato da mo' i 100 episodi, però ci sta, ci sta festeggiare questo momento così importante Comunque tre cifre in un episodio non è da tutti Sono passati molti anni, sette anni, sette anni è qualcosa da quando ho cominciato questa simpatica cronistoria Infatti per festeggiare ho chiesto a tutti i miei amici di mandare un vocale, un messaggio Per festeggiare tutti insieme questo lieto evento Però di tutti i miei amici mi ha risposto solamente uno, si vede che gli altri forse non hanno trovato tempo Vabbè, poi quelli mi li ascolterò per i fatti miei Però c'è il mio amico Antonio che mi ha mandato un vocale di 13 secondi Quindi saranno degli auguri brevi ma intensi Io non l'ho ascoltato, vi giuro, non ho ascoltato niente Quindi ascoltiamolo tutti insieme, che bello Oh ma che bravo, il centesimo video La tua credibilità sta colando a picco come ziauditore quando si butta sui covoni Cercati un lavoro Insomma Andiamo avanti e finalmente possiamo dare una conclusione alle vicende di Charlotte de la Cruz Almeno nel 2016 Che poi non mancava nemmeno così tanto alla fine Ma la verità è che nello scorso video non ci avevo più voglia E quindi un pezzettino l'ho messo qui Non vi preoccupate, Charlotte de la Cruz la finiamo 100% Il terzo Last Descendants Probabilmente no, ma non vi preoccupate Perché metterò casomai il pezzettino nel video successivo Che poi sarà tutto zoberg centrico Il 101 sarà uno dei più belli episodi della storia Almeno per me Comunque riprendiamo Da dopo che Cody è morto E ci sono Charlotte, sua nonna E gli altri membri di Erudito che sono nascosti nella foresta E stanno decidendo che cosa fare per sfuggire ai Templari Che stanno invadendo l'isola Quando all'improvviso sopra le loro teste Appare un aereo che però Neanche il tempo di domandarsi Ma sono amici, sono nemici, boh chi lo sa Questo aereo esplode Quindi non si pone il problema A quanto pare non era un aereo Templare Perché appunto Cosa che l'ha fatto esplodere Un colpo di cannone da una nave antiaerea Templare Che stava vicino alla costa Quindi sicuramente non erano Templari A meno che i Templari non siano deficienti E quindi approfittandosi di questo momento di caos Florenzia Che è la nonna di Charlotte, ricordiamolo Suggerisce di approfittare di quel momento Per farsi una bella camminata di sei ore Per raggiungere delle barche nascoste in una grotta Dall'altra parte dell'isola E scappare Bisogna avere sempre un piano di emergenza Anche perché i Templari hanno già preso il molo Quindi bisogna per forza prendere queste barche segrete Di cui a quanto pare sa solamente Florenzia Cambio di scena E scopriamo che Ortega Sanchez È sopravvissuto all'attacco del cartello messicano Di qualche episodio fa Ed è lì Arrivato personalmente per uccidere Charlotte E i membri di Erodito Posso dire che io non la ricordavo questa cosa Perché quando ve ne ho parlato Nell'episodio dedicato Ho detto Vabbè sono tutti morti Ma perché effettivamente c'è un tizio del cartello Con un bazooka Fa esplodere le macchine Come cazzo fai a sopravvivere E invece Ortega Sanchez è sopravvissuto È apparso così A cazzo di cane E quando poi Charlotte lo rivedrà Non ne sarà nemmeno particolarmente sorpresa Quindi Come cazzo sono scritti questi fumetti A volte veramente Che non sono totalmente brutti Ma ogni tanto Tutta la roba lì Della volta scorsa Che i Templari Qui li mischiano con gli strumenti della prima volontà Che tra l'altro poi Quando arriviamo al terzo di The Last Descendants C'è una roba simile Ma attenzione Poi ne parliamo Perché sto cominciando forse a capire Qual è il problema Di questo errore Di questa Sì Di questo errore Di logica Tra Templari E strumenti della prima volontà I Templari Quindi raggiungono L'aereo Precipitato Sull'isola E non è Lost E vengono subito Agguantati Subito Agguantati E brutto Subiscono l'agguato Di Joseph Michelle E Galina Che sono arrivati lì Da Vi ricordate nello scorso episodio Che si sono Di nuovo Non di nuovo Che si sono alleati Temporaneamente Per aiutare Charlotte Ok Sono sopravvissuti Alla caduta dell'aereo Sheed Purtroppo L'altro membro di erudito Insieme a Michelle Purtroppo è morto Ma sinceramente Credo che non esista nessuna Quindi ne fregasse qualcosa Di Sheed Quindi I tre rimasti Vanno a salvare la situazione Galina dice di aver inviato Un messaggio agli altri assassini Poi non capendo Se il messaggio è arrivato Forse sì Forse no Ma sta di fatto Che i tre decidono Che per evitare Ulteriori esplosioni Di aerei Di alleati Devono occuparsi Della nave Templare Antiaerea Passano le ore Sei ore di camminata Va bene che io Non sono proprio Informissima Ma penso che anche una persona Abbastanza In forma Sei ore di camminata In una giungla Beh sarà l'adrenalina Il fatto che Se non ti muovi Sei morto Forse quello aiuta Comunque passano le ore Sei ore circa Charlotte E gli altri Arrivano A queste grotte Misteriose A questa grotta Anzi ma c'è qualcosa Che non va Nessuno Li ha inseguiti Per tutto il tempo Loro va bella Attenzione Va bene tutto Però effettivamente Una volta arrivati Le ha detto Oh comunque Non ci hanno seguiti Che cosa Che cosa bizzarra E l'occhio dell'aquila Di Charlotte Non le dà tregua Continuamente Le dice che Dentro quella grotta Ci sono dei nemici Pronti A prenderli in trappola Cosa che effettivamente È vera E la nonna Giustamente Incredula Perché non si spiega Come avrebbero potuto Trovare quel posto Prima di loro Anche perché avevano messo Tutti i cellulari offline Robbe varie Eccetera eccetera E allora Lì Charlotte Confessa Questa cosa L'avevo detta anche Nello scorso episodio Ma in realtà è qui Che Charlotte Confessa Che al 100% La colpa è sua Ed è il trasmettitore Dentro di lei Che le aveva messo Le aveva messo Ortega Sanchez Nel Nel secondo fumetto Nella seconda raccolta Di fumetti E appunto Questo trasmettitore Che vi ricordate Che insieme a Cody Non l'aveva scansionato Tutto E quindi La nonna Si incazza come una faina E Charlotte Si assume Le sue responsabilità A costo anche di rimetterci la vita Dividendosi dal gruppo Che si dirige di nuovo Verso la foresta Per nascondersi E andando invece lei In tutta altra direzione Per fare da esca Sta di fatto comunque Che queste barche Niente La situazione è molto disperata I tre rinforzi Quindi di nuovo Joseph Galina E Michelle Assaltano La nave Templare Tra l'altro Siccome il 2016 C'è una citazione Simpatica A Pokemon Go Perché c'è un tizio Che li riguardia Con un tablet Che dice Non penso che qui ci sia un Pikachu C'è letteralmente scritto Pikachu Sta cosa mi ha fatto molto ridere all'epoca Perché il 2016 Non so se vi ricordate Se eravate già nati Ma c'era Come si dice Esploso Pokemon Go Tutti i telegiornali I nostri figli E poi non è successo niente Comunque c'è di fatto Che c'è questa simpatica Citazione Ma il tizio Non ha nemmeno il tempo Di provare a catturare Un eventuale Pokemon Perché lo ammazzano Prendono ad assalto Questa nave templare E alla fine A causa di un'enorme esplosione Che comunque Mette fuori gioco La suddetta nave Joseph rimane Gravemente ustionato Alla testa E alla schiena E sa per certo Che non gli resta Molto da vivere Prima di separarsi Dalle altre due Dà la sua ascia A Michelle E fa promettere a Galina Che non permetterà Alla confraternita Di cambiare Charlotte E Galina gli risponde Che semmai Sarà Charlotte A cambiare la confraternita Posso dire comunque Che Charlotte Sarà ricordata Come una grande assassina Questo si Cambiare la confraternita Forse è un po' too much Però va bene Le due si riuniscono Al gruppo di erudito Mentre Charlotte Corre Corre a perdifiato Menando i templari Che trova sulla strada A una certa Arriva sul bordo Di un precipizio E non ha dove fuggire E allora lì Ortega Sanchez Tronfio Accompagnato Da alcuni agenti armati Si presenta E Charlotte Ormai dice Vabbè Sto per morire Ormai sto per morire Ma ecco la divina provvidenza Tanto qui A livello temporale Non si capisce un cazzo Però ve lo sto raccontando Esattamente come appare Leggendo il fumetto Ecco che arriva Dal precipizio Da sopra Così Un elicottero Che spara Una pioggia di proiettili Sui templari Dentro ci sono La nonna Gli amichetti di Charlotte Più alti assassini Tra cui uno Che credo sia Har and shoot Perché c'ha la cresta Da moicano Ed è grosso così Quindi non può essere Che Har and shoot C'è un Come si dice C'è un parallelismo Tra la prima volta Che Charlotte Ha fatto un salto Da un palazzo all'altro Ricordate Quando vi ho detto Ma sta prospettiva Comunque non ha un cazzo di senso Comunque Per dire che invece Adesso lei è brava E quindi fa un altro salto Verso l'elicottero Perché non possono atterrare A parte che comunque Si fa aiutare dagli altri Quindi Ce l'avesse fatta da sola Avrei capito Non l'ho capita Sta scena Però va bene Charlotte fa pace Con la nonna Tutto è bene Quel che finisce bene E rudito A quanto pare Adesso si unirà Gli assassini Perché sono rimasti In pochi Poi da oggi Sono tutti quelli del mondo Però magari Questo attacco templare Gli ha fatto capire Che allearsi Almeno temporaneamente Cosa buona e giusta E la nostra protagonista Charlotte Carica a molla Dice Io spero Che i templari Mi trovino Chissà come andrà Il futuro di Charlotte Lo scopriremo Tra qualche episodio Chissà la nonna La nonna Non la vedremo mai più Forse non verrà Manco più nominata Non lo so Questo non lo so Lo dovrei andare a cercare Ma sono certo Che non la vedremo mai più In uprising Non c'è la nonna Di Charlotte Non è che sono passati Tipo dieci anni E è morta Nel frattempo Ne sono passati Uno E poi diventano due Cioè 2017 E 2018 Quindi Vabbè Ok Grazie Florenzia Comunque se non viene nominata Forse è rimasta a capo Di erudito In segreto Comunque non gliene fregava Un cazzo a nessuno Della nonna di Charlotte Peccato E quindi Grazie Charlotte Per tutto quello Che hai fatto Grazie per aver trovato Conso Per aver ricevuto Un messaggio criptico Per fermare Giunone Il progetto finisce Vedremo tutto il resto In uprising Ma non c'è tempo Da perdere È tempo di iniziare E forse finire Il terzo E ultimo romanzo Di The Last Descender Che si chiama Ce l'ho scritto qui Perché non mi ricordo più Il destino degli dei Che poi volendo Si potrebbe tradurre Come Ragnarok Perché Ragnarok Volendo Può anche essere tradotto Come destino degli dei Come Il terzo romanzo Di The Last Descendants Dal secondo romanzo Sono passati Dieci giorni E Sean Continua a lavorare Per Isaiah Ignorando il fatto Che si fosse Dissociato dai Templari Cioè Ignorandolo proprio Nel senso che ignora Non che fa finta di niente Lui non lo sa Che Isaiah Non è più un Templare Quindi ancora lui Pensa di stare lavorando Per i Templari Che poi gli fanno le protesi Come no Nella simulazione Il suo antenato Vichingo Styrbjorn Vede il pugnale Ed è in possesso Di Harald Bluetooth Che sarebbe Haroldo Dente azzurro Non lo chiamerò mai così Mai Lo chiamerò Harald Bluetooth Per tutto il tempo Tanto non appare Così tanto Almeno In questa sezione In cui non ci interessa Tanto il passato Ma quanto il presente Tra l'altro Lo sapevate Che Bluetooth Deriva proprio Da Harald Bluetooth Ma presto Sapeva che questo Pugnale In quel momento In quel momento Nella simulazione Era in possesso Di un altro Ma lui sapeva Che sarebbe presto Entrato nelle mani Del suo antenato Così da Consegnarlo poi A Isaiah E Vabbè Poi Isaiah conquisterà il mondo Ma questo Sean Non lo sa Il tempo stringe Riusciranno i nostri eroi A fermare il piano Di Isaiah Sì Perché se no Gli altri Assassin's Creed Non sarebbero esistiti Ma questo è un altro Paio di mani Che Rimanete con me Rimanete con me Fate finta di credere A questo pericolo imminente Ritorniamo dagli altri ragazzi Ci sono ormai tutti quanti Riuniti nel Larry Ormai mezzo abbandonato Ci sono Owen e Griffin Che stanno osservando Uno degli edifici Del Larry Che sì È mezzo abbandonato Ma ci sono Dei 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 Templari Che fanno avanti e indietro Da giorni E secondo Griffin tra di loro C'è almeno un membro Dell'Inner Sanctum Ma non fa nomi Considerando Questa è una mia ipotesi Considerando Il luogo La situazione Può essere solamente O Simon Hathaway Che però Lui stava a Londra Vabbè Comunque I oggetti privati I templari dell'Inner Sanctum Possono essere ovunque Oppure Mitsuko Nakamura Era Mitsuko Nakamura O mi sto confondendo Con una qualche Pornostar giapponese E ho fatto una Una gag Tra l'altro adesso Potreste vedere La mia immagine Immobile L'importante è che sentite L'audio Perché sto computer Mentre registro Se mi azzardo A Cercare su Google Non ce la fa Esplode E succede un casino Mitsuko Nakamura Perfetto Quindi Per come sono Combinate le robe O Simon Hathaway O Mitsuko Nakamura Sto di fatto che non fa nomi Quindi È tutto nelle nostre fantasie Owen Ricordiamolo Nel frattempo Ogni tanto guardo Se sta continuando a registrare Sì Perfetto Owen Ricordiamolo È ancora Molto Rancoroso Nei confronti Degli assassini Per quello che ha visto Nel ricordo Mostratogli Da Isaiah E il fatto che Griffin Non sia pronto a Negare Perché la sola idea È offensiva Sapete quelli che dicono Vabbè ma lo sa Che mi dispiace Sì ma di Che ti dispiace Chiedi scusa No ma lo sa Queste persone le odio Quindi Griffin uguale Non è che dice No No non abbiamo coinvolto Tuo padre Perché proprio La sola idea è offensiva Comunque non migliora La situazione Quindi in questo momento Owen è abbastanza Incazzoso C'ha anche ragione Anche Griffin Comunque non sta ammesso Molto bene Poiché Alleandosi con Victoria Sa che Probabilmente La sua vita D'assassino La sua carriera Finirà Ma non si pente Delle sue scelte Perché è per il bene Del mondo Tanto comunque Non è la prima volta Che assassini e templari Si alleano Quindi non penso Che William Avrebbe fatto tante storie Vabbè Comunque Larry È a loro disposizione Perché i templari Vogliono che Victoria Continui con i ragazzi La ricerca Del terzo reb Ignorando che per la seconda volta Li ha traditi Di nuovo Cioè Victoria Che si allea Con gli assassini Anche lei costretta Per carità Però se i templari Sapessero Infatti raga È un caso È un caso Che alla fine Di questo libro Poi la ritroviamo Due anni dopo Con gli assassini In Odissi Che i templari L'avrebbero Massacrata di botte Forse anche peggio Victoria Da comunque Ovviamente Sa di fatto Che questi templari Se ne vanno Rimangono solo loro Quindi Griffin Che è un assassino E gli altri due Owen e Javier Possono girare tranquillamente Ovviamente C'è anche Morro Tra le altre cose Victoria Dà la possibilità Ai ragazzi Di tornare Dalle proprie famiglie Promettendo che I templari Non gli avrebbero Fatto nulla Comunque Victoria Queste promesse Non so quanto potere Abbia Victoria Su questa roba Qui però Almeno lei Dice onesta Non vi costringo A stare qui A rischiare la vita Tutti decidono Di rimanere Però Dei cinque ragazzi Perché Sean È l'unico Che non c'è più Dei cinque ragazzi Quattro Decidono di restare Perché ovviamente Nessuno sarebbe stato Sicuro Nel mondo Con Isaiah A comandare In possesso Del tridente Ma invece L'unica Che ha un motivo Diverso È per restare Natalia Perché vuole Salvare Sean Guarda che cucciolina Natalia Che pensa ancora A sto stronzo Che però ripeto Capisco i suoi motivi Che li ha traditi Quindi Natalia Ripeto Il mio personaggio Preferito Di Tutta questa storia Poi più avanti Ci darà altre soddisfazioni Quindi Top Visto che L'ultima simulazione Di Sean È stata Con i vichinghi In Svezia Nell'885 Nell'800 Scusate Così sembra che siamo In pari con Valhalla No Nel 985 È chiaro che sia Quello il periodo storico Da esplorare Ad avere degli antenati Utili Sono Javier David E Grace Natalia È contenta È sollevata Di non dover tornare Di nuovo Nell'Anius Mentre Owen Non sopporta L'idea Di non fare nulla E stare lì Ad aspettare Ma entrambi Aiuteranno Monroe Con altre faccende Poi ci arriviamo Il capitolo Si conclude Al solito Con i ragazzi Che discutono Se ci si possa fidare Di Griffin E di Victoria Vabbè Allunghiamo Allunghiamo Grace e David Ovviamente Hanno Un antenato In comune Cioè hanno lo stesso Antenato Che è importante Ma anziché fare Come con Elias E suo padre Che magari Stanno con un antenato E poi un altro A parte che comunque Austin Il loro antenato E Austin Sta per i cacchi suoi Fino a quando non combatte Però comunque Quella roba Di Elias E suo padre Non si può fare Quindi l'idea È che semplicemente Si alterneranno Così da poter Continuare la simulazione Senza che ci si stanchi Troppo Così da Essere anche più spediti Finché non sarà chiaro Comunque Chi è più in sintonia Con l'antenato Inizia David Nei panni Di appunto Di Austin Che è questo Contadino Forzuto E gigantesco Ex guerriero Ormai ritirato Tutto sembra andare bene Finché David Non scopre Un'amara verità Ovvero che Austin Ha uno schiavo Personale Cosa che i vichinghi Facevano In Valhalla Questo non lo vedete Perché se no Col cazzo Che giocavamo Nei panni Di Eivor Col sorriso Sulle labbra Poco importa Che Austin Comunque sia Un padrone Buono Caro Poco severo David Non riesce Ad accettare Questa cosa Sapete come No Lui è nero Già Questa cosa Della schiavitù Forse un pochino Fa tiltare Le persone Quindi non riesce Poi c'ha 13 anni Ricordiamolo David non riesce Ad accettare Questa cosa E si desincronizza Vomitando come se non ci fosse Un domani La Pasqua del 92 E non ha Stato lì sul divano Catatonico quasi Non ha ancora le forze Per dire a Grace E Victoria Qual è il problema Ma spera davvero Che l'antenato utile Sia quello di Javier Perché dice Se andiamo avanti così Hosten Chaone E passiamo proprio A Javier Che sperimenta Per la prima volta L'animus Del Harry E l'inizio Della simulazione È abbastanza doloroso Motivo per cui Natalia In libro precedente Diceva sempre Di avere mal di testa Entra nei Nei panni Nei parti Entra nei panni Di Thorwald Hjaltason Che è un assassino Non ho un occulto Perché guardate La cosa intelligente Io non so Se è questo libro Che è uscito nel 2016 Se è uscito nel 2000 Quando è uscito Sto libro Scusate Adesso mi sta avvenendo Un dubbio Perché volevo scrivere Sto cosa Ma 2018 Ma allora Ditelo 2018 Già Odyssey Origins E non ho già usciti E infatti Una cosa Nel frattempo qui casca tutto Una cosa estremamente Intelligente Che fa questo libro E non dire mai Per quanto riguarda Questo periodo storico Il 985 Non dire mai Assassini O templari Vengono chiamati L'ordine E la confraternita Che va benissimo Perché comunque Qui stiamo in realtà Parlando Di ordine Degli antichi E Confraternita Degli occulti Perfetto Così non ci sono cazzi A parte che comunque I giochi hanno Spesso la precedenza Su ste robe Quindi anche se ci fosse Se ci fosse stato scritto Assassini templari Io avrei detto No questa cosa Non la consideriamo Canonica Perché è una strunzata Quindi è un occulto Non Qui però Non sembrano dire Ah gli occulti Che cosa interessante Perché comunque Il nome assassino Templare Occulto Antico Non viene mai fatto Aspetta Infatti questa cosa L'avevo scritta Senza rendermi conto Che era già uscito Nel 2018 Quindi Owen E quindi c'è Javier con questo occulto Che anche lui Sarà importante Ai fini della trama Per trovare il pugnale Owen e Natalia Vengono informati Da Monroe Che grazie a Loro 6 Quando c'è stato Il primo libro Che li ha avuti Tutti e 6 Per studiarli Durante la La simulazione Del Vabbè Con Caggia e il Cormac Ci siamo capiti E' riuscito Quindi ad avere Il DNA completo Dell'inconscio collettivo Ritorna Questa storia Del cazzo Che è proprio Ma va bene Ok E quindi può creare Una simulazione Tramite l'animus Ma una simulazione Non di un antenato Una simulazione Dell'inconscio collettivo Perché fare una cosa Così potenzialmente Pericolosa Perché non sai Che cosa ti troverai davanti E' una roba inedita Perché questi frammenti Di DNA Sono speciali E sembrano sempre Nascere con la presenza Dei Rebbi del Tridente Quando un antenato E' vicino Lo usa Eccetera eccetera Quindi forse Contiene anche Un messaggio Delle indicazioni Per contrastare I poteri del Tridente Però Certo potrebbe essere Molto rischioso In quanto Owen e Natalia Non sarebbero Nei panni Di qualcuno Di cui devi Semplicemente Metterti In cui devi Semplicemente Metterti da parte E rivivere i suoi ricordi Ma Sono loro Con i loro corpi Digitalizzati Per carità E con le loro stesse menti Che dovranno fare robe Non si sa che cosa Devono fare E quando Natalia Gli chiede Perché non ci va lui Se proprio ci tiene Così tanto Anziché Andare due minorenni A morire Nell'animus Monroe Risponde che A causa Di passati traumi Psicologici Provocati Dal padre Quando era piccolo Una normale simulazione Nell'animus Già potrebbe essere Pericolosa Figuriamoci Una così Particolare Vabbè Ci sta Ci sta Non è neanche una scusa Così brutta E anzi Molto Molto plausibile I due ragazzi Accettano Nonostante il rischio Anche perché Sennò la trama Va avanti Grace Nel frattempo Si mette nei panni Di Austin Eppure Non accettando Ovviamente Che lui avesse Uno schiavo Si sincronizza Meglio E regge I ricordi Reggono E rivive Quel momento In cui viene Richiamato Alla guerra Per impedire Che Stirbjorn Diventi re Quindi per il momento Sembra proprio Che Grace Non farà mai E poi mai Il cambio Con David Sarà lei A rivivere I ricordi Di Austin E c'è David In questo momento Assolutamente Inutile Che si sta Riprendendo Dallo shock Dalla Desincronizzazione Torniamo Da Sean Sean È stanco Ma stanco Ma stanco Per tutte Le simulazioni Con il suo Antenato E le continue Pressioni Di Isaiah Eppure È orgoglioso Di quello Che sta facendo Benché non riesca Più a prendere Sonno facilmente Tra l'altro Loro si trovano Appunto In In questo Vecchio monastero Dove alloggia Che fa Veramente Cacare Pronto Comunque Per quanto Lui stia soffrendo È pronto A trovare L'ultimo Pugnale Tra l'altro Isaiah Che va lui A svegliarlo Guarda Come è combinato In questo momento È già tanto Che Isaiah Lo fa dormire Ma adesso Ci arriviamo Isaiah è l'unico A cui Sean Permette di spingergli La sedia a rotelle Senza che gli dia fastidio Credo sia un modo Sottile per indicare Che comunque Sean Adesso vediamo Un momento di ribellione Però in generale Sean è abbastanza Soggiogato Da lui L'unico edificio Che può contenere L'animus Ovviamente Che lo mettono In questo vecchio monastero Ma figuriamoci No È una cappella In cima A un poggio Che ovviamente Sean non potrebbe Mai raggiungere In sedia a rotelle A meno da Non avere delle braccia Incredibilmente Muscolose Un po' Too much Ed è per questo Che ogni giorno Lo fanno salire In un'auto Con il pilota automatico Che lo porta Lì in 4 minuti È anche una voce Computerizzata Tipo Alexa Sappiate che In Assassin's Creed Ci sono le auto Tipo Herbie Super Maggiolino Non ho capito Vabbè Vabbè Animus Abstergo Tecnologia Nella simulazione Sean percepisce Che Harold Bluetooth Sta cercando Di usare Il pugnale Su Styrbjorn Questo è il pugnale Della fede Ricordiamolo Ok Questo è il pugnale Della fede Però Per qualche motivo Styrbjorn Sembra esserne immune Cioè Styrbjorn Non si accorge di niente Invece Sean Che sa Che il pugnale Dovrebbe fargli qualcosa Rimane Perplesso Lo riferisce A Isaiah Che decide Di interrompere La simulazione Per studiare meglio Quella registrazione Perché ovviamente Isaiah si sta cagando Addosso Per dire Perché ha scoperto Che a quanto pare C'è un modo Misterioso Per resistere Ai poteri Del tridente Sean si ribella Dicendo che vuole Restare nell'animus Quella è la prima volta Che discute Con Isaiah Che invece Lo fa uscire In malo modo Perché È proprio Bambino capriccioso Io voglio restare Io voglio restare E Isaiah Lo desincronizza In malo modo E lo minaccia Con il tridente A due rebbi Cioè già Isaiah Si è fatto Il tridentino Con L'asta Con due rebbi Manca il terzo E quindi Lo minaccia In questi modi E mi sa quindi Che la loro amicizia È abbastanza Abbastanza finita Che tra l'altro Mi sta avvenendo Un enorme dubbio È veramente Il pugnale Della fede O è il pugnale Della devozione Lo sapete Perché io mi confondo Per ste cose Per un semplice Fatto Perché Credo sia Perché per me Fede Devozione Io veramente Non riesco A Non riesco A capire Qual è la differenza Ogni volta Sono molto confuso E niente Devo cercare un attimo Perché se no Non vado più avanti Con questa spiegazione E infatti Non era il pugnale Della fede Era il pugnale Della devozione Ora Chiamatemi imbecille Per me Sono praticamente La stessa cosa C'è fede Vedi il tizio Che impugna Questo coso Come un dio Devozione Gli sei devoto Cioè cos'è Non lo vedi Come un dio Ma comunque Stai dalla sua parte Vuoi Vuoi il suo bene Vuoi servirlo Vuoi la sua approvazione Per me È la stessa Identica roba Però Va bene Comunque i vikingi Hanno il pugnale Della devozione Non della fede La fede L'abbiamo avuto Appunto nel Nel primo libro Infatti c'era tutto il ricordo Di Di Cortes Con gli Aztechi Cilma Popoca E va bene Andiamo avanti Quindi poi Allora Torniamo da Hohen e Natalia Che entrano in questa Particolare simulazione Dell'inconscio collettivo E inizialmente È tutto buio Quasi a sembrare Un malfunzionamento Poi davanti allora Appare una luce parlante Che gli dice E qui lo leggo Per davvero Perché non me lo ricorderei Mai a memoria Il sentiero Passa attraverso Paura Devozione E fede Trovate il sentiero Attraverso ciascuna di esse E io sarò Sulla vetta Ad aspettarvi Lo riferiscono a Morro Che pensa di essere Sulla strada giusta Dato che i tre Rebbi del Tridente Hanno il potere Hanno il potere Dopo qualche Dopo qualche minuto Dopo qualche minuto di titubanza Decidono di attraversarla Cercando di camminare In linea retta Per non Perdersi All'interno di Questo luogo E in tutto questo Si sentono Osservati Da qualcosa Nell'oscurità E poi Si ritrovano Di fronte A una gran Quantità Di pelle Di muta La muta Di un serpente Enorme E capiscono Che cosa si aggirava In quella foresta Seguono la pelle Per decine di metri Ma ogni passo Sono sempre più spaventati Quindi c'è un morro Che gli spiega Che hanno incontrato L'archetipo Del serpente Che all'alba Dell'umanità Rispetto agli ominidi Appareva più grosso E minaccioso Tutto molto bello Se non fosse per il fatto Che in Assassin's Creed L'umanità Non si è evoluta Nel corso dei millenni Dagli ominidi Che cazzo dici? Vabbè Diciamo che Anche se la verità È un'altra L'inconscio collettivo Umano non lo sa E quindi si immagina Che gli ominidi Erano piccoli Vabbè Perché complicare Così tanto la trama Con sta cagata Dell'inconscio collettivo Vabbè Di che stiamo parlando Non si sa Dobbiamo ritenerlo Comunque valido Perché è quello Che tutte le persone Pensano Vabbè Comunque è ovvio Che in questa prova Devono superare Le loro paure Lo capirebbe anche Un bambino speciale Ma l'istinto È troppo forte Quando vedono di fronte A loro Questo serpente Gigantesco I due Corrono come matti Si passa quindi A David Che dopo aver pensato All'esperienza Con il suo antenato Capisce molto saggiamente Che anche se Il suo modo di vivere Lo fa molto arrabbiare Non deve cercare Di resistere A quella rabbia E accettarlo Per quello che È stato Insiste con Victoria E Grace E finalmente Si rende utile Dando la possibilità A sua sorella Di riposare Dandole il cambio Senza desincronizzarsi Ma Grace Avrà un altro ruolo In questa storia Andiamo più avanti Quindi torniamo È stata Una pausa molto breve Torniamo da Natalia E Owen Che scappano Dal serpentone Riflettendo Mentre corrono Quindi alla One Piece Mentre corrono Parlano Riflettono Si rendono conto Che l'unico modo Per raggirarlo Non è scappare Ma arrampicarsi Su di lui E poi andare Oltre Perché questo serpente Dà l'impressione Di muoversi In un'area specifica Nella foresta Quindi salgono Su un albero Che ha un ramo Abbastanza grosso Per reggerli C'è Natalia Che si Si butta Crede che Che morirà Ma Invece Sta sopra il serpente Praticamente Lo cavalca Anche se non era Una cosa prevista Poi comunque La forza Del serpente È troppo veloce Il vento Robbari è troppo forte Lei cade E si ritrova di nuovo Il serpente davanti E allora dice Guarda Piuttosto che morire Tutta disperata Mi alzo Mi faccio mangiare In maniera dignitosa E ciao E quando Il serpente La ingoia All'improvviso Sparisce Perché Pensate un po' Natalia Ha affrontato La paura E Si forma Un sentiero Perché il serpente Stesso Era il sentiero Sentite la profondità Di questa narrazione E quindi Vedono Uno spiraglio Tra gli alberi Ed escono finalmente Da questa cacchio di foresta Natalia Vede una persona Che aspetta Sul vialetto Così c'è scritto L'ho scritto proprio Perché adesso ci arriviamo Perché l'ho scritto proprio Come nel romanzo È una persona Grande e grossa Ma non umana E non avendo molte opzioni Si avvicinano Ora ci ritorniamo Sul vialetto Cioè appena uscito Dalla foresta C'è sto vialetto E vedono un tizio Scritto così Comunque Grace si prende la pausa Grazie a David Va nell'ufficio di Isaiah Dove guarda i titoli Di alcuni libri Che sono rimasti Sperando di trovare Una lettura interessante Che possa anche distrarla Da ricordo Della visione paurosa Indotta dal pugnale Nello scorso libro Che nello scorso libro Non lo dicevano Ma praticamente David Aveva visto La casa Della sua famiglia Vuota E quindi la sua paura Più grande Era rimanere da solo Invece Grace Come Diciamo Come era intuibile Ha una visione Ha avuto una visione Di David Che smarrisce La retta via Frequenta gente Sbagliata Non è il ghetto Yo yo Motherfuck E poi muore Sparato male Una paura Più che comprensibile Comunque Tra i libri Ci sono le biografie Legate ai templari Sui Borgia Su Jacques de Molay C'è il diario Di Ethan Kenway Che a quanto pare È diventato un best seller Tra i templari Quindi In teoria Forsaken Esiste Nel mondo di Assassin's Creed Però come magari Lettura per i templari E basta E magari le parti con Connor Tagliate con l'accetta Perché non sia mai C'erano anche un libro Sulla mitologia norrena E dato che aveva ancora Freschi i ricordi di Osten Lo prende Si legge un sacco di robe Sull'Occhio Dino Ferrir Ragnarok Tutta roba Conosciudissima Della mitologia norrena Ma nel contesto di AC Fa sorridere Leggere di Grace Alle prese con queste leggende Dopo che invece noi abbiamo Saputo la verità Grazie a Valhalla Anche un po' a Mirage Comunque alla fine Dal libro cade Un foglietto Scritto a mano E Grace Lo legge E capisce Che è stato scritto Da Isaiah E che quindi Qui c'è La rivelazione Isaiah Non vuole semplicemente Dominare il mondo Lo vuole distruggere Vuole il Ragnarok E quindi Panico Poi cos'è che cambia Rispetto a prima Comunque cambio Cambio Panico Non fidandosi Abbastanza di Victoria E Griffin Decide di rivolgersi A Morroc E l'unico neutrale In teoria Ed è al dialogo Tra loro due Vengono fuori Le seguenti informazioni Isaiah In realtà Non è un templare Da tempo Ma è uno strumento Della prima volontà Anzi Era anche Uno strumento Della prima volontà E adesso ha lasciato Tutti in generale Quindi colpo di scena Isaiah Già Da una vita Non era più un templare È strumento Della prima volontà Oddio Ma No 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 Adesso vuole il potere Tutto per sé Ah Meno male Ok boh Ok Inoltre Riferendosi a Ragnarok Che non intendeva La distruzione totale Del mondo Ma alla sua rinascita Perché anche Nella mitologia stessa Il Ragnarok avviene Però poi C'è chi sopravvive Il mondo rinasce Eccetera eccetera Quindi non è proprio Un'apocalisse È una rinascita E E questa cosa E quindi Isaiah poi vuole Fare questa roba qui E regnare sui superstiti Rimasti E questa cosa In realtà Doveva avvenire Già nel 2012 Ma dato che Desmond ha scongiurato Per il momento Valhalla ti sto guardando Per il momento Questa è la catastrofe Isaiah riteneva Di Doverlo fare Con le proprie mani Con l'aiuto del tridente A quanto pare Magari prende il controllo Di un tizio Con la bomba atomica Che la lancia Allora lì capisco Perché col tridente Di per sé Non può distruggere il mondo Però è comunque Molto pericoloso Monroe le chiede Per il momento Di non riferire Queste informazioni A Victoria Per essere sicuro Che lei non sapesse Già Di tutta sta roba qui E in quel caso Chiederle perché Aveva mantenuto Il silenzio Quindi Questo gruppo Ancora la fiducia Non regna sovrana E comunque Fanno anche bene Io non mi sarei mai fidato Di una come Victoria Grace non è affatto Tranquilla E nota Che vicino a Owen E Natalia C'è un terzo Animus A che culo Vuoto E che Unirsi a loro Per aiutarli Dice tanto C'è mio fratello Che con il nostro antenato Io sto qui A girarmi i pollici Non ha alcun senso Quindi i due Quindi questa roba Avviene quando loro Sono usciti Dalla foresta Lei appare Vu Che si è evitata Tutta la roba Del serpentone I due le fanno Il riassunto E poi tutti e tre Si incamminano Seguendo il percorso Il vialetto La persona Che era nel vialetto Ce lo siamo Completamente dimenticato Per questo ve l'ho detto Potevo saltarlo Dico Boh vabbè Cioè Raga Ma li rileggiamo Questi libri Prima di pubblicarli C'è un editor Che si occupa Di sta cacata Cacata Per modo di dire Ora mi sto arrabbiando In realtà A me questi romanzi Piacciono Però ci sono questi momenti Che L'unica cosa Che mi viene in mente È che Loro hanno visto Questo essere Grande A qualche A qualche metro Da loro E Boh si è incamminato Per i fatti suoi E li ha preceduti Vabbè Comunque Vanno avanti Seguono il sentiero E incontrano Un cane Enorme Proprio una roba Dall'aspetto Di un lupo Qui no Prima c'è Il serpente gigante Poi il lupo gigante Non c'è Hell Perché Quando l'ho letto Ho pensato Oddio Non è che ci sono I tre figli di Loki Perché si parla Di mitologiano Rena Non c'è Hell Ve lo dico In tutto questo Vabbè comunque Incontrano questo cane Enorme Dall'aspetto lupesco Quindi Per loro È un lupo Che sembra Che volerli attaccare Invece si alza E gli fa capire Che devono seguirlo Quindi prima Si cagano in mano E poi c'è il cane Che invece dice No Segui Glielo dice Glielo fa capire Il cane A un certo punto Esce dal sentiero E corre verso la cima Di un colle I tre Lo seguono Sebbene siano spaventati Dell'idea di abbandonare Il sentiero E rischiare di restare Lì per sempre E su questa cima C'è una struttura Composta da grosse pietre Disposte a circolo E il cane Continua a latrare Al suo interno Di questa struttura I ragazzi Entrano E trovano Il cane Si chiamano proprio così Perché è proprio l'archetipo Il cane Del cane Seduto accanto A un uomo Che sta sdraiato Non è sdraiato È sempre seduto Per terra L'uomo All'aspetto Di un vecchio saggio Esattamente come Ve lo state immaginando voi No Con gli stracci Un po' Messo male Però Con un'aula Di saggezza attorno E il capitolo Si conclude Con Con lui Che dice Di stare per morire E che loro Devono fare qualcosa Per il cane Quando Quando lui Non ci sarà più Torniamo da Sean Che se la sta passando male Con Isaiah Che prima lo costringe A rivivere le sue paure Che è una cazzata Neanche ve la dico E poi gli tende la mano Come un dio salvifico Che lo libererà Dall'idea di essere Inutile Per chiunque Sì Comunque la sua paura Era questa Di essere inutile Va bene Quindi si torna Nell'animus Che bello Da Styrbjorn Per cercare Quindi questo cacchio Di pugnale Si arriva a ricordo Di Styrbjorn Che si fa dare Il pugnale Da Harold Bluetooth E Sean È molto emozionato Ma Isaiah Gli ricorda Dopo avergli fatto I complimenti Perché sai Lo maltratti Però un po' Di complimenti Ci stanno Con un rinforzino Positivo Gli rammenta Che però Ancora devono vedere Che fine ha fatto Questo pugnale Ci sono Quei mille Cento anni Di differenza Tra l'oro E il pugnale Ok Ora ce l'hai Il tuo antenato Vediamo che fine ha fatto Owen E le altre due Sono ancora Con l'uomo Delle caverne Praticamente È così Che lo descrivono Perché ha la pelle Molto Bronzia Molto scura Poi sta in questa struttura Che effettivamente Assomiglia a una caverna E dice Di stare per morire Vuole che trovino Un nuovo compagno Per il cane Questo ve l'ho già detto Non conoscendo nessuno Del posto Anche perché è una simulazione Quindi di che stiamo parlando Owen si offre Di portarla Si viviscono a loro Come una femmina Anche se viene chiamato Il cane Quindi vabbè Comunque è una femminuccia La porteremo con noi Il vecchio ringrazia E aggiunge che Più avanti C'è un crocevia E aspettando abbastanza a lungo Troveranno Un nuovo compagno Per lei Scena super triste Del vecchio che muore Il cane guaisce Ma è tutta una simulazione Quindi non me ne faccio Ne frega assolutamente nulla Perché sta gente Non esiste Ma Owen E le altre due Provano abbastanza pena Da considerare il tutto Come se fosse reale Io mi sono incattivi Doci ho 30 anni Loro sono degli adolescenti Ancora puri di cuore A quanto pare Inizia a nevicare E a quanto pare La prima la descrivono Come una struttura Quasi al chiuso E però invece A quanto pare Nevica Ma la neve Entra Dentro questa struttura E la temperatura Si abbassa notevolmente Il cane non ne vuole Sapere di allontanarsi Dal corpo del vecchio E Owen rimane lì Per convincere A seguirli Invece Natalia e Grace Dice vabbè Noi torniamo al sentiero Andiamo un po' più avanti Poi ti aspettiamo Al crocevia Perché comunque A me sembra Tutta una roba inutile Owen rimane lì Perché se la prende Così tanto a cuore Perché sa bene Cosa significa Perdere qualcuno Che ami E avere bisogno Di qualcuno Che ti dica Di lasciarlo andare Di andare avanti La devozione Occhiolino Occhiolino Del cane Era molto forte E molto forte E Owen decide Che non se ne sarebbe Mai andato Senza di lei Guarda Piuttosto Muori assiderato E infatti Owen quasi si addormenta A causa dell'ipotermia Quando ecco Che il cane Diceva Dai stai morendo Se lo lecca tutto Lo riscalda E lo porta fuori Da quel posto E così i due Seguono il sentiero Della speranza E raggiungono Natalia e Grace David intanto Continua la sua simulazione Sapendo da Victoria Che Grace Era andata per i fatti suoi E si è unita A un'altra missione Insieme a Owen E Natalia Quindi ora Al 100% Deve essere Lui A portare avanti Il tutto Con questi ricordi Non poteva commettere errori E in questo particolare Ricordo Di questo capitolo Austin incontra Thorvald L'antenato occulto Di Javier Ma non essendo Una simulazione Condivisa come quella Di New York Non cambia niente E' una curiosità Che dicono così Più che altro Vabbè Natalia e Grace Hanno raggiunto Il crocevia E decidono di aspettare Owen E di vedere Se davvero In quel luogo Apparirà Il nuovo padrone Per il cane Grace per poco Non dice Per errore a Natalia Che cosa ha letto Sui piani Di Isaiah Che poi Arriva Owen Che salva la situazione Con la cagnolona Al suo fianco I tre si siedono Ad aspettare Che arrivi qualcuno E iniziano a parlare Di cose quotidiane Come i programmi Che guardavano Più volentieri In tv Roba in realistica Per dire Ragazzini del 2016 Piuttosto Potevano parlare Dei loro youtuber Preferiti Però vabbè O di chi giocava meglio A fort C'era fort Night Nel 2016 Vabbè Cazzate mie Pensieri che mi Vengono adesso Dei loro animali Domestici Comunque Mentre aspettano In quella situazione Così assurda Parlare Della quotidianità Della normalità Delle loro vite Passate Quasi di conforto Una speranza Perché si possa Ritornare A giornate tranquille Come quelle Che hanno avuto In passato A un certo punto Si mostra Allora Si avvicina Un uomo alto Con indumenti di lana Tutto Riccamente Decorati Che senza neanche Salutarli Si dimostra Interessato al cane Dicendogli che Gli farebbe comodo Un animale del genere Per sorvegliare Una torre Piena di oro E argento E promette Di trattarla bene Owen si rifiuta Di cedergliela Nonostante L'insistenza Dell'uomo E poi questo qui Se ne va Incavolato Ne arriva un altro Ma anche quello Non va bene Questi capitoli Si allungano All'inverosimile E poi finalmente Arriva una vagabonda Che non Pretende nulla Neanche si interessa Al cane In quel momento E i tre Parlandole Si rendono conto Che è la persona giusta A cui Affidare l'animale E così Owen Un po' sofferente Perché si era Già affezionato Un po' come Ash con Butterfree Gliela affida Dice Vai Vai Cagnolona Vai dalla tua Nuova proprietaria E quindi Così superano Superano La prova Della devozione Il cielo Che fino a quel momento Era sempre rimasto Fermo Con un sole Pomeridiano All'improvviso Si rabbuia E Fino a diventare Una gelida Mezzanotte Continuano A camminare Sotto Un cielo Molto limpido Con le stelle E la luna Che sembrano Molto più vicine Alla terra Di quanto Dovrebbero Essere Ma tanto Lì Tutto è strano Quindi Fanno spalucce Dicono Vabbè Ormai Abbiamo visto Di tutto Finché Non raggiungono La vetta O comunque Sono molto vicini A la vetta Dove dovrebbe esserci La fine Di questo Viaggio E Su questa vetta Comunque Era dipinta C'è dipinta O incisa a fuoco Su una ripida Parete ripida Parete rocciosa La semplice Ombra Di un gigante Alta almeno Trenta metri E il sentiero Finisce proprio Ai suoi piedi Quindi Si rendono conto Che per proseguire Ci sono solo Due vie Percorribili A sinistra Una serie di gradini Scalpellati Nella pietra E una corda A cui aggrapparsi Mentre A destra Una salita Scavata Nella roccia Leggermente più Larga Senza corda Senza niente Alla fine Scelgo Le sentiero a destra Poiché nessuno Garantiva Che la corda Avrebbe retto Non sapevano Quanto fosse vecchia Dove era legata Eccetera Eccetera Ci mettono Quella che sembra Un'eternità Ad arrivare E soffrono Parecchio Sia fisicamente Che psicologicamente Tanto che Mentre riposano Guardando L'abisso Sotto di loro Non stanno Nemmeno Seduti Così tanto Comodamente Natalia Natalia Presa Dallo sconforto Si lancia Nell'abisso E si salva Solo perché Grace Intuendo cosa Stava per fare Si Si butta in avanti Le afferra il polso E ovviamente Poi Owen L'aiuta A tirarla su E Natalia Si scusa Comunque E' chiaro Che Se Natalia Ha battuto Il serpente E Owen Ha ceduto Il cane Con tutta la roba Della Devozione Ora tocca Grace Spronare Gli altri due Che sono Devastati Mentalmente Fisicamente Ad avere Fede Che riusciranno A raggiungere Questa cima Apparentemente Irraggiungibile Quasi come se Tutto fosse perduto Ed effettivamente I tre Arrivano Non ancora Alla vetta Ma In cima Alla sua parete A strapiombo E da lì Il sentiero Meno male Prosegue Sean Conclude La sua missione Vedendo L'ultimo ricordo Disponibile Del suo antenato Dove Costruisce Un altare Per poi Sposarsi Con Tyra Che storicamente La moglie Di Styrbjorn E offre Il pugnale Per compiacere Gli dei Infilandolo Nella crepa Di un masso Due volte Più grande Di lui E poi coprendolo Con delle pietruzze Per non farlo trovare Eccetera Isai è tutto contento Si congratula Con il ragazzo E lo informa Che comunque Il suo antenato Da lì a poco Concepirà un figlio E poi morirà Durante la battaglia Che lo attende Quindi Meno male Che se ne è disfatto In questo momento Quindi comunque Styrbjorn Non ha veramente capito Un cazzo Di quel pugnale Incredibile Owen E le altre Le altre ragazze Camminano In un corridoio Dall'aspetto futuristico Che chiaramente Ci richiama La prima civilizzazione E capiscono Che non può Trattarsi di un archetipo Dell'inconscio Collettivo umano E qualcosa di diverso Si ritrovano In una stanza Piena di macchinari Incomprensibili Una specie Di laboratorio E una figura Parla a loro Con lei Che ha architettato Tutto questo Migliaia di anni prima Per contrastare Il potere Del tridente E proprio lei L'unica iso Che si mette a chiacchierare Con gli esseri umani A distanza Di millenni Mi nerva O per meglio dire Un suo ricordo Del passato Inizio tutto Uno spiegone Che noi fan A maggior ragione Voi Se siete arrivati Fino a questo video Guardandovi Tutta la playlist Conosciamo benissimo Sul destino Della civiltà Isu Però ovviamente Ci sta Che ci siano Queste spiegazioni Perché metti che uno Non so perché Si legge questo libro Senza essere Troppo avvezzo Alla lore Di Assassin's Creed Allora qui Ti fanno un riassunto Poi ci sta anche Perché i ragazzi stessi Nessuno Gli ha mai detto Queste cose Adesso sono Sono eruditi Anche loro Sulla lore Di Assassin's Creed Ok questo l'ho fatto Tra l'altro Minerva Dice che Il termine Frutti dell'Eden È appunto Un termine Coniato dagli umani Ma io sono abbastanza sicuro Che In passato Abbiamo sentito Altri Isu Usare la parola Frutti dell'Eden Quindi Questa è una roba Che varia da autore Autore Ovviamente Quindi io questa frase Di Minerva La lascerei lì E la ignorerei Del tutto Anche se è molto logica Pure nei primi Assassin's Creed Frutto dell'Eden Era un modo di dire Perché c'era la mela Come nella Bibbia Eccetera eccetera Posto il fatto che Nella Bibbia Non viene mai detto Che frutto era Quindi Un altro paio di maniche Quindi Minerva spiega Che essendo Preoccupata Fortemente Per il potere Del tridente Ha inserito Questi ricordi Nella mente Nelle cellule Di alcuni umani Calcolando Anche come Quando i loro antenati Avrebbero usato I tre rebbi Così da creare Questo messaggio Grazie all'inconscio Collettivo In pratica Minerva Ha usato A modo suo Le ricerche E la tecnologia Di Giunone E Odino Praticamente Senza far reincarnare Nessuno Però Ha praticamente Usato questa roba qui Perché ha manipolato Anche lei geneticamente Gli esseri umani I ragazzi Si domandano Che cosa devono fare Nel concreto Per fermare I poteri Del tridente E Minerva Risponde loro Che questo Particolare Ricordo Ha sbloccato Qualcosa Dentro Di loro E quando sarebbe venuto Il momento Avrebbero capito Vabbè La simulazione Finisce I tre ragazzi Raccontano tutto A Monro Che rimane Molto sorpreso Che abbia avuto Un contatto Con una Isu E poi Dice Tra le tante cose Che ci sono persone Che vorrebbero Resuscitarli Ovvero Gli strumenti Della prima volontà E fino a qui ci siamo E così Grace Aggiorna Anche i suoi Due amici Sui pieni Di Isaiah Ma la cosa Interessante È che perfino A Monro Sono arrivate Voci di una Fazione segreta Dentro L'ordine Templare Che vogliono Resuscitare Giunone Forse È questo Che Maldestramente In maniera Molto maldestra Si intendeva Nel Terzo fumetto Di Charlotte Dell'episodio Precedente Che mi sono Molto lamentato Di questa roba qui E poi Però c'è questa roba qui Che mi ha fatto impazzire Più avanti i ragazzi Discutendo fra di loro Diranno che gli strumenti Sono proprio Dei templari Con uno scopo diverso E io a questo punto Non credo che sia Una coincidenza Come può essere Che due media Diversi Usciti In anni diversi O comunque In tempi diversi Scritti nello stesso periodo Da due autori diversi Appunto Quindi non è che si parlano Perché uno Che scrive il romanzo Di AC Dovrebbe parlare Con quello che ti fa Il fumetto Non ha alcun senso Perché in tria tutti Dovrebbero comunicare Solo con Ubisoft Quindi secondo me Ubisoft all'epoca Ha dato proprio Delle linee guida Sbagliate Ha dato delle linee guida Sbagliate Ed è per questo Che giustamente Gli autori Gli autori Arrivano a dire Sta cacata qui Che Appunto Come si chiama Gli strumenti Della volontà primaria In realtà Sono dei templari Che sono Che si sono votati A un'altra causa Quando non è vero In Black Flag Quando viene introdotto Per la prima volta Il concetto di questo gruppo Si capisce Che è una terza fazione Poi che ci siano Assassini E templari Che segretamente Si uniscono A questo culto Di Giunone Perché poi tra l'altro Solo di Giunone Si parla Non della Tutti gli isu Ok Capito no? Quindi Capisco Comincio a capire Che questa confusione Potrebbe non essere Una coincidenza Noi facciamo finta Di niente Se noi impazziamo E comunque Anche nei prossimi episodi Vedremo sempre di più Questa secret invasion Sia tra i templari Che gli assassini Che si rivelano Essere strumenti Della volontà primaria E Io poi in realtà Volevo dire Qualcos'altro Ma non me lo sto ricordando Non me lo ricordo Vabbè Sarà stata una cazzata Comunque Monroe Dopo questo bel discorsino Sta per andare A controllare David e Javier Quando Owen Gli fa presente Che aveva promesso Di mostrargli I veri ricordi Della rapina in banca Fatta da suo padre Ma Monroe Se ne esce dicendo Che non è il momento Perché potrebbero Trovare il pugnale Da un momento all'altro E va bene E infatti Poco tempo dopo La svolta avviene Proprio grazie Ai ricordi di Javier Sul suo antenato Thorvald Che assiste Di nascosto Al momento Al momento in cui Stirbjorn Infila il pugnale Nella crepa E poi se ne va Con la moglie E aspetta Che nessuno Sia nei paraggi E poi Prende Quel pugnale E se lo porta Da presto Se ne impadronisce Quindi Griffin Entusiasta Dice a Javier Che quello È un ramo Della confraternita Di cui Non sapeva Nulla E con tutte le retcon Arrivate Successivamente Ha senso Perché appunto Thorvald Ripetiamolo Non era un assassino Ma un occulto Quindi ci sta che Griffin Non sapesse Che era un occulto E quindi Non sapesse nulla Di questi personaggi Del passato Ah ecco Cosa dovevo dire Che questa roba qui Dei templari Che sono Strumenti Da volontà primaria In realtà È più una roba Di Valhalla Con l'ordine Degli antichi Infatti noi Se vi ricordate In Valhalla Vediamo L'ordine degli antichi Nel suo momento Peggiore In cui Sono talmente Fissati Con gli isu Da dimenticarsi Tutto il resto Non è un caso Che poi Da lì a poco Alfred Avrebbe distrutto L'ordine Per creare Poi Quello dei templari Che sì Vanno a cercare Gli strumenti Degli isu Ma non venerano Gli isu Quindi È interessante Però se non ci fosse Questo bordello Tra tutti i media Sarebbe ancora più interessante Comunque Vi salto Un sacco di robe Del passato Per quello C'è un episodio Dedicato E alla fine Comunque Gira e rigira Il pugnale Finisce nelle mani Di Austin Incaricato da Thorvald Stesso Di nasconderlo E così fa Tornando A casa Nella sua fattoria E seppellendolo Vicino A una sorgente Non troppo lontana Appunto Dalla sua proprietà E David Quindi non ha più motivo Di restare nell'animus Ma prosegue Ancora un pochino Abbastanza Da vedere Che il suo antenato Ha poi liberato Lo schiavo Bravo Austin Victoria Quindi informa Tutti quanti Che i templari Hanno individuato La posizione Di Isaiah Ovvero Una vecchia Struttura Dell'Abstergo Sull'isola Di Sky Che tra parentesi Questa non me la ricordavo È la stessa isola Dove si sono incontrate Eivor e Cassandra Bellissimo Ma La seconda squadra Ha perso i contatti Con la prima E una volta arrivati A controllare Il posto Era deserto Questo perché Isaiah Coltridente Chiaramente Li ha portati tutti Dalla sua parte In pratica Avvicinarsi A lui Sembra impossibile Senza poi Diventare Suoi schiavi E a causa Di questo problema Andare in Scandinavia Per recuperare L'ultimo Rebbio Va fatto Con la massima Prudenza Javier suggerisce Che avrebbero potuto Trovare Isaiah Nel luogo Dove sicuramente Si interrompeva La simulazione Di Sean Se Styrbjorn Era quindi davvero Il suo antenato Ovvero A Uppsala Dove c'era Una volta Quel masso E quindi Perché Isaiah Ovviamente Non può sapere Che nel passato Thorvald Cinque minuti dopo Si è ripreso Il pugnale Da quel nascondiglio E che Osten L'aveva portato Da tutta altra parte E quindi C'è una Piccola Occasione Per coglierlo Di sorpresa Quindi Victoria dice Di voler far preparare Un jet Abstergo Ma Morro La mette Alla prova Dicendole Cerca di capire Cerca di capire Se lei sa Della presenza Degli strumenti Della prima volontà Tra i templari La situazione Diventa così Tesa Con questi Detti Non detti E Victoria Che comincia A innervosirsi Che Natalia Li nomina Sputa Il rospo Morro si incazza Per cui si incazzano Tutti Ma Victoria Afferma Che non c'è da preoccuparsi Visto che sono stati Neutralizzati Internamente Quindi Anche qui Victoria Coglie l'occasione Per dire Una minchiata In ogni caso È chiaro Che non possono Rivolgersi Ai templari Per prendere Un jet E nemmeno alla confraternita A causa del tridente Che può controllare Mentalmente chiunque Quindi Gli unici di cui si possono fidare Per fermare Isaiah Sono quelli All'interno della struttura Che sicuramente Non hanno avuto Un contatto Diciamo Un lavaggio Della mente Un controllo mentale Da parte di Di Isaiah Si discute Su chi dovrà andare A fermare Isaiah E si decide Che saranno Owen Natalia Grace E Griffin Griffin Ovviamente Perché è un assassino Professionista E invece Owen E Natalia Grace Perché dopo tutta Quella roba lì Del sentiero In teoria Dovrebbero essere diventati Immuni O comunque Molto resistenti Ai poteri Del tridente Invece David E Javier Questa roba del sentiero Non l'hanno fatta O forse Non erano neanche Destinati A farla E quindi È inutile Che vadano lì A fermare Il boss Finale Poi c'è Tutto Tutto Un discorso Interessante Sul fatto Che A parte Questa roba Sempre sta minchiata I primi Gli strumenti Della prima volontà Sono dei veri templari E Victoria E Victoria dice No Però Griffin Dice Se invece Loro fossero Più templari Di quanto Voi non lo siate Nel senso Voi avete dedicato Anni e anni A dare la caccia Ai frutti Dell'Eden E dove porta Tutto questo Se non Alla formazione Di un gruppo Che venera Gli iso Eccetera Eccetera Che in realtà Ha anche un senso Se non fosse Che È chiaro Che gli strumenti Della volontà primaria Come ho detto prima Esistono da sempre Da sempre Sono esistiti Quindi non è che Per forza I templari Però va bene Quindi Victoria Se ne va Tutta offesa Io vi ricordo Comunque Che nonostante La sua grande amicizia Con Simon Hathaway E ora sia offesa Perché No I templari E i templari Dopo questo libro Passerà dalla parte Degli assassini Io veramente Io quanto cazzo Odio questo personaggio Non vedo l'ora Di arrivare a Odyssey Però Mentre Quando Victoria Se ne va Natalia Il personaggio Più bello Di sto libro Sorprende tutti Dicendo che No Griffin Il risultato Finale Di Dei templari Che cercano I frutti Dell'Eden Per diventare potenti Non sono gli strumenti Della volontà primaria Ma sono persone Come Isaiah Che ha Appisciato Pure lui Gli strumenti Della volontà primaria E vuole il potere Tutto per sé Zitto 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 Griffin Che una ragazzina Te l'ha fatta Proprio vedere E questa Qui è ancora più bello Qui è ancora più bello E poi dobbiamo interrompere Mancava pochi Mancava Neanche pochissimo Però Vabbè Comunque Il gran finale Di sto episodio Mancano 18 ore Alla partenza Dell'aereo Per Uppsala O Hapsala Penso che si pronuncia Uppsala Vabbè Quel luogo lì Della Scandinavia E stanno mangiando Tutti insieme Tranne Victoria C'è Monroe Che ha fatto spaghetti Col burro Comunque Quelle quattro cose Che sono rimaste All'abster Non neanche all'abster C'è Larry E qui Monroe In nome della par condicio Rivela ai ragazzi Le malefatte Degli assassini Tra cui anche L'incendio di Costantinopoli Da parte di Ezio Auditore E già che non ha nominato Anche la Cappadocia È stato un signore E c'è anche la questione Di Jack lo Squartatore Che anche lui Era un assassino Comunque è stato addestrato Degli assassini Era un assassino Poi li ha lasciati Vabbè Penso che conoscete la storia Avrete visto i DLC Quando Griffin dice No Lui non era Un vero assassino Jack lo Squartatore Però Su Ezio Non ha detto niente Perché è muto Comunque Jack lo Squartatore Non era un vero assassino Natalia Gli rifila Le stesse frasi Che lui ha detto A Victoria Ovvero E se invece Jack fosse Il più assassino Di tutti Voi Uccidete Per il bene superiore Dove conduce Tutto questo Se non A un pazzo Deviato Però lì Griffin dice No no Gli assassini Si sono occupati Di Jack lo Squartatore Perché lui Non ha rispettato Il nostro credo E se non rispetti Il credo Non sei un assassino E bu 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 Va bene Comunque E' bella Questa parte Perché in generale Con personaggi come Monroe I ragazzi Che ancora non sono Schierati Con tutto che ci sono Ste Ste locandine Non le locandine Come dice Ste copertine Clickbait Con loro con la lama Macellata Ma quando mai Però vabbè Cosa la devi Poscrivere Abbiamo una visione Estremamente neutrale Della guerra Tra le due fazioni Molto Molto bello Rinfrescante Ogni tanto Avere dei personaggi Che sono al di fuori Di tutto ciò Comunque Alla fine Il giorno dopo Partono Con passaporti falsi E posti In prima classe Poi c'è Grace Che non riesce A dormire E si guarda due film E È talmente tesa Per quello che deve succedere Che guardandosi Questi film Tra cui uno di supereroi E il 2016 Cos'è che era uscito Già era uscito Civil War Secondo me era Civil War Non me lo ricordo Vabbè Comunque Si dice film di supereroi Io penso alla Marvel E non di certo Alla DC Oddio C'era Batman v Superman No Spero che Grace Non abbia visto Batman v Superman Sull'aereo Se no Si morde la lingua Per ammazzarsi No Di scherzo Comunque È interessante Che lei dice Che lei pensa Ho guardato Sti due film Per distrarmi Ma ormai Guardare film Quando c'è In gioco Così tanto Mi sembra quasi Una perdita Di tempo Anche se comunque Poi conviene Che l'hanno distratta Abbastanza E alla fine Forse Vedersi film Serve anche a questo Per distrarsi Dai problemi Che ti affliggono E come immaginavo Abbiamo Forse anche sforato Adesso io non ho Bene in mente Mi sono fatto Più o meno Una stima Di a che livello Siamo come Come minutaggio Ma Siamo Nei tempi Che ho deciso io Tempo fa Per quando Devo parlare Basta Senza neanche mettere Un po' di gameplay Da qualche parte La gola Mi sta sparendo Quindi È esattamente Dove pensavo Che avremmo interrotto Quindi va bene così Prossimo episodio Si conclude Una volta per tutte La storia Degli ultimi discendenti E del tridente Dell'edne Di Aiseia Cazzi e Mazzi Ma soprattutto Nell'episodio 101 Ozzo Berg Come se piovesse Oh Che bello Finalmente Che bello Che bello Non manca neanche troppo Invece ad Apprizing Perché so Che a voi Piacciano queste cose qui In realtà No sto scherzando Apprizing Se Dio vuole Ne riparliamo Con l'episodio 104 Niente Nel mezzo c'era anche Il film di Assassin's Creed Che continuo a dimenticarmi Devo rileggermi Il libro Di Assassin's Creed Santi Dio Va bene Ok Quindi io spero Che questo episodio 100 Vi sia piaciuto E noi Ci vediamo quindi A un prossimo video Ciao